Corsivo per tutti, il mio quaderno del corsivo. Si tratta di un eserciziario pensato per tutti quei bambini che stanno imparando a scrivere in corsivo, che devono migliorare il gesto grafico o acquisire maggiore dimestichezza. Grazie ai righi colorati il bambino potrà gestire al meglio lo spazio e scrivere con maggiore precisione. Si inizia con semplici parole contenenti tutte le vocali e la sola consonante P per poi continuare gradualmente con le altre consonanti che si aggiungeranno una alla volta e che porteranno il bambino a scrivere parole sempre più complesse e anche brevi frasi. Il quaderno, nelle sue 52 pagine, presenta uno schema costante. Convertire le parole da stampato maiuscolo a corsivo, autodettato partendo da un'immagine, scrittura di brevi frasi, copiatura da corsivo e conversione da stampato a corsivo. Si tratta di un vero e proprio allenamento per migliorare sempre di più nella scrittura in corsivo. In allegato, l'alfabettiere con le lettere in corsivo maiuscole e minuscole.